ciao sono Stefano di Savini Vivai siamo qui oggi a Cotignola in provincia di Ravenna nel nostro vivaio dove abbiamo le nostre piante di agromi vi mostro la pianta di arancio Washington in vaso 35 come potete vedere la pianta molto bella è una pianta che ha un diametro di tronco di 3 4 centimetri è pronta alla produzione quindi vi ho portato a casa una pianta importante però già pronta a produrre favolosi fiori a primavera e arance nei mesi autunno invernali e l'unica accortezza che dovete avere per questa pianta è per il nord proteggerla nei momenti più freddi della stagione tipo dicembre gennaio quando iniziano le gelate sicché queste piante sopportano fino a meno due meno tre sotto lo zero termico mentre per quello che riguarda il centro sud e il sud italia non ha assolutamente problema essere trapiantata fuori all'esterno il frutto è di dimensioni medio grandi la polpa è gialla e molto dolce la buccia è abbastanza spessa con la parete di abome molto pronunciata si presenta in 8 10 spicchi e si sbuccia molto bene è adatto da mangiare fresco e anche da fare ottime spremute se decidi di acquistare la pianta sul nostro sito la riceverai direttamente a casa tua in questi imballi che sono stati studiati apposta per i trasporti per mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili durante il viaggio per acquistare le nostre piante puoi farlo direttamente sul nostro sito savinivivai.it oppure puoi venire il nostro vivaio di Cotignola vicino a Ravenna e non dimenticarti iscriviti al nostro canale di youtube savinivivai rimarrai sempre aggiornato su tutte le nostre novità un caro saluto da stefano ciao e alla prossima